Natale e solidarietà ad Avellino. Oggi nella piazza coperta dell'ospedale Moscati per il quinto anno sono stati addobbati gli alberi della prevenzione e dell'impegno. Quattro colori per un messaggio unico. Blu per l'autismo, rosso donne metastatiche, rosa per quanto riguarda la prevenzione in genere e non bancava il verde per l'Avellino. Guardate che in effetti noi parliamo di prevenzione, quindi di agnosi precoce ed è l'unico modo per potersi salvare la vita, trovare tumori di piccole dimensioni, problemi che si possono risolvere con semplici interventi e non terapie chemoterapiche importanti che comunque possono devastare non solamente dal punto di vista fisico ma anche psicologico le persone. Venendo un attimino da lui mi sono trovata nella ragnatella e sono nove anni. Nove anni signora, quante palline ha preparato per questi Natali? Non lo so, una marea, una marea. Intanto nel piazzale della caserma Berardi si è illuminato l'albero delle forze armate con un messaggio speciale per tutti i militari impegnati in missioni all'estero. L'augurio che faccio ai miei uomini è di continuare a mantenere alto il nome dell'Italia e il nome delle istituzioni che servono e da servire il paese sempre con il sorriso perché quello che facciamo noi lo facciamo per costruire un mondo migliore, un futuro migliore per i nostri figli e per le generazioni successive. Quindi forza ragazzi, noi siamo sempre insieme a voi.